Perché quando fotografo il cibo le mie fotografie non mi piacciono? Le fotografie degli altri mi sembrano meglio? Che cosa posso fare per migliorare le mie? Oggi andiamo a rispondere a questa domanda e vi farò vedere delle foto che sono state realizzate di recente andando a esaminare quali sono i punti che danno un vantaggio al fotografo nel momento in cui sta realizzando delle fotografie a dei piatti in un ristorante o contesti similari. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia per le aziende e oggi andremo a parlare di fotografia per le aziende in settore alimentare per cui nello specifico fotografie per un ristorante. Nel fare questo andrò a spiegarvi quali sono secondo me alcune cose che ti danno un grosso vantaggio quando realizzi fotografie di questo tipo e quindi ti ritrovi poi ad avere delle fotografie migliori applicando questi stessi principi se state facendo delle fotografie per voi stessi ovviamente ottenete gli stessi benefici per cui andiamo subito a incominciare ma prima devo ricordarvi di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto perché vedo dalle statistiche che comunque molti, moltissimi di quelli che fluiscono i miei contenuti non sono iscritti al canale ragazzi se avete guardato uno, due, tre video a questo punto è evidente che l'argomento vi interessa con un semplice click di un pollice potete rimanere tranquilli che non vi perderete mai più un contenuto benissimo ma cominciamo subito e devo fare una premessa tenete conto che in ambito food professionale non esistono delle fotografie di cibo vero cioè sì esistono ma sono una netta minoranza la maggior parte delle fotografie che noi vediamo in ambito food quindi commerciale stiamo parlando per esempio del cartellone pubblicitario di McDonald's o di Burger King di solito quello non è cibo sono delle props sono cose che si usano per far sembrare il cibo in un certo modo questo non vuol dire che poi il cibo vero sia diverso a volte sì ma non è necessariamente così significa semplicemente che c'è la figura del fotografo professionale di cibo e poi c'è la figura del food stylist che è un'altra cosa è una persona specializzata nel allestire nel mettere giù il cibo in maniera più convincente per la foto per fare questa cosa spesso e volentieri quello che si usa non è cibo spesso e volentieri si usano delle colle per fare la glassa per renderla più appetitosa è pieno di trucchi di questo tipo quando guardate una foto di un hamburger è molto facile che l'insalata sia finta che il formaggio non sia veramente formaggio che ci siano sopra delle cose in più o delle cose diverse per farlo sembrare più bello in fotografia quindi nella maggior parte delle fotografie che vediamo di livello alto tenete conto che si è barato quindi poi uno dice perché non riesco a fare la stessa foto è perché il cibo vero si comporta in maniera diversa e quando uno fa una fotografia professionale in un certo modo ci sono dei trucchi per far sembrare la foto più bella questi trucchi oggi non li guarderemo perché io non sono un food stylist e quindi non ve la so raccontare bene quella parte andremo invece a vedere come si realizzano delle foto migliori concentrandoci sull'aspetto prettamente fotografico che è quello che è stato fatto nelle fotografie che vi mostro oggi perché si tratta di fotografie per una trattoria quindi un ristorante molto tradizionale quindi in un posto del genere ovviamente non abbiamo usato robe finte per fargli le foto i piatti sono veri sono esattamente come vengono fatti e i posti del genere puntano proprio sulla genuinità sia del prodotto sia della comunicazione quindi era un contesto dove utilizzare il cibo finto per farlo sembrare più grosso più voluminoso non aveva molto senso ma andiamo a vedere quali sono i punti di forza e quindi le cose che possiamo girare a nostro favore nel momento in cui stiamo fotografando del cibo al primo posto personalmente io metto l'allestimento l'allestimento nel senso che quando io sto facendo un servizio fotografico per un ristorante o per un'attività normalmente ho a disposizione quasi tutto quello che voglio nel senso che posso farmi fare n piatti e disporli come voglio io ora chiaramente avere a disposizione tutto il locale vuoto e avere a disposizione un tavolo intero con sopra tutti i piatti che voglio mi dà una grandissima libertà creativa di spostare le cose, di posizionarle come voglio quindi posso avere un piatto in primo piano perché mi sto concentrando su quel piatto ma sullo sfondo posso mettere un altro piatto un bicchiere di vino insomma ho una grandissima libertà creativa da quel punto di vista cosa che normalmente non ho quando sono al ristorante con amici o con parenti ho visto la gente che fa la foto del piatto magari alla pericena e dice no aspetta voglio mettere il bicchiere così sia il piattino delle olive qui voglio fare la foto quello in minima parte è la stessa cosa stiamo facendo quella roba lì stiamo allestendo con quello che abbiamo diciamo che nel mio caso io ho un grosso vantaggio perché ho tanti piatti veri a disposizione senza nessuno che vuole mangiare che vuole cominciare che mi mette fretta quindi ho a disposizione un allestimento che è mio e ho il tempo per fare quello che voglio questo è il primo grosso vantaggio e questo probabilmente non esiste una vera soluzione perché se siamo fuori al ristorante non abbiamo questa possibilità però questa è una cosa che possiamo gestirci invece se stiamo facendo delle fotografie a dei piatti che abbiamo cucinato a casa per il nostro blog di cucina per esempio un'altra cosa molto importante è il punto di vista da dove osserviamo tenete conto che storicamente la vecchia scuola della fotografia food dice che le fotografie food si fanno tendenzialmente in due modi la fotografia da sopra zenitale oppure la fotografia con un angolo di 45 gradi circa dipende un pochettino a gusto però circa 45 gradi perché sono le due visioni che meglio rappresentano il cibo di solito quindi la visione zenitale può essere molto utile per dare una visione di insieme la visione da 45 gradi è molto simile a quella che vediamo davvero quando ci sediamo per gustare il piatto questo è vero e rimane probabilmente il modo migliore di fotografare il cibo però esistono tante variazioni tante sfumature personali vi faccio un paio di esempi se stiamo fotografando del cibo in un piatto fondo è possibile che dobbiamo metterci a metà tra lo zenitale e il 45 gradi quindi non dobbiamo essere rigidi in questo perché zenitale può essere noiosa è molto facile che annoi una foto del genere io preferisco di gran lunga la visione da 45 gradi però con un piatto fondo potrebbe non essere la cosa migliore quindi magari devo mettermi a metà strada un'altra cosa molto importante è lo sfondo quindi magari io mi siedo al mio tavolo e da dove mi trovo ho una visione di un certo tipo ma se io mi sposto da un'altra parte posso vedere lo stesso piatto da un'altra angolazione e magari lo sfondo è premiante negli esempi che vi faccio vedere oggi ho sfruttato una delle pareti per far vedere il fumo il vapore che veniva fuori dai piatti questa è una cosa che non sarebbe stata possibile se io avessi fotografato il piatto dal posto in cui era posizionato quindi dovevo muovermi intorno al tavolo per fare una cosa del genere questa è una cosa che in realtà si può fare perché non è vietato alzarsi per fare la foto intorno però è una cosa che raramente la gente fa perché normalmente uno si siede e dice boh io sono qui sono seduto e da qui faccio le foto invece alzandosi e girando intorno al piatto si scoprono delle cose quindi sperimentare in questo senso è sicuramente un ottimo punto di partenza profondità di campo assolutamente essenziale la profondità di campo secondo me nella fotografia food attenzione è pur sempre vero che adesso i cellulari la simulano però la simulano in una maniera che non è sempre bellissima facciamo un paio di esempi io vi faccio vedere una foto fatta con iphone 15 pro e tenete conto che la trovo maledettamente buona cioè sono innervosito per quanto sono buone queste foto perché pensavo peggio e il confronto con la macchina fotografica lo tengono benissimo nel senso che funzionano e sono più facili da fare col cellulare piuttosto che con la macchina fotografica però con il cellulare l'effetto che riusciamo a ottenere è molto diverso nella fattispecie e questa è una mia impressione è una mia interpretazione però parliamone come sempre nei commenti e ditemi la vostra io trovo che la fotografia fatta col cellulare abbia un carattere denotativo mentre una fotografia fatta con la macchina fotografica è fortemente connotativa ovviamente dipende anche dalle ottiche utilizzate in questo caso stiamo utilizzando l'85 mm 1.4 e il 100 mm macro 2.8 quindi la connotazione a mio parere deriva proprio dalla profondità di campo quindi neanche tanto dalla fotocamera quanto dall'ottica però ottiche del genere sullo smartphone non le puoi avere quindi io trovo che le fotografie fatte con questa profondità di campo siano fortemente connotative mentre la fotografia fatta col telefono io la trovo denotativa ditemi voi cosa ne pensate io ho questa sensazione piuttosto marcata un ultimo alleato un'ultima freccia che possiamo avere nella nostra faretra ed è una cosa di cui ho già parlato in un video precedente andatevelo a recuperare è il flash ora io so benissimo che il mondo è diviso a metà ci sono quelli che utilizzano come me il flash quando serve ci sono quelli che utilizzano il flash anche quando non serve per carità e poi ci sono quelli che io scatto solo con luce naturale allora ragazzi la mia opinione è questa la luce naturale è una cosa meravigliosa e quando la luce naturale è sufficiente a realizzare i nostri scatti io sono il primo a essere pigro e a non voler tirare fuori o portarmi dietro roba in più per cui se la luce naturale mi dà quello che mi serve siamo tutti a posto il punto è che quando la luce naturale non mi basta o non mi dà quello che mi serve io non posso dire al cliente eh oggi non c'è luce torno domani quando non c'è luce o quando la luce non mi va bene o quando voglio modificare qualcosa il flash è uno strumento che mi deve aiutare non un qualcosa che mi deve opprimere e rovinarmi la foto quindi basta saperlo usare nel momento in cui io mi trovo in una condizione del genere e magari i colori della sala sono tungsteno perché lampadine trattoria tradizionale luce al tungsteno giallissima io utilizzo il flash sia come schiarita ma anche proprio per modificare un pelo l'esposizione perché comunque l'esposizione era era molto stratificata a favore della finestra che era presente in sala per cui avevamo molta luce da una parte e poca luce dall'altra parte i puristi direbbero che avrei potuto mettere i pannelli ma non era la soluzione ideale perché mettere un pannello vuol dire concentrarsi molto sul singolo piatto inoltre qui era un allestimento dove c'erano tanti piatti mettere un pannello e ogni singola foto posizionare il pannello su un piatto diverso avrebbe voluto dire intanto fare solo un piatto alla volta e poi metterci molto più tempo con il risultato che i piatti nel frattempo si raffreddano e si deteriorano invece scattiamo col flash siamo più rapidi più veloci più efficienti otteniamo grossomodo la stessa cosa perché andiamo a dare una schiarita sul lato dove la luce è di meno e andiamo anche a bilanciare il colore perché la luce del flash è neutra e quindi è molto facile da bilanciare con la luce dell'esterno un ultimo consiglio che vi do è quello di cercare di integrare le fotografie all'interno di un progetto questa è una cosa che ho scoperto di recente e l'ho scoperta pensate che roba io vado a fare le mie fotografie faccio il mio solito lavoro prendo le foto le metto in una cartella e rimangono lì e le condivido con i colleghi con i clienti eccetera i miei colleghi le mie colleghe quelle che si occupano di social prendono le mie immagini e fanno delle cose con queste immagini fanno la comunicazione social del cliente che è una cosa di cui poi io non mi occupo più quindi io diciamo che da un certo punto di vista mi disinteresso di quello che succede con le mie foto dopo che le ho consegnate recentemente sono andato a vedere ogni tanto lo faccio sono andato a vedere alcune cose che sono state fatte con le mie immagini e mi sono reso conto che le mie immagini sono state utilizzate per far percepire che c'era un progetto dietro da questo mi sono detto cavolo bella questa cosa devo tenerne conto perché anch'io devo pensarle in maniera tale che siano integrabili in un progetto infatti le composizioni che vi faccio vedere oggi mostrano come le varie fotografie sono integrabili in un progetto più ampio quindi non c'è la singola fotografia ci sono serie di fotografie magari riguardanti lo stesso piatto questa è una cosa che avvalora diciamo che completa il servizio fotografico ed è una cosa puramente di ragionamento qui non serve più né tecnica né niente abbiamo già parlato di tutte queste cose si tratta solamente di scattare con un criterio tale da poter poi fare una composizione o presentare un progetto sul singolo piatto o sul singolo ristorante se è per quello questa cosa ovviamente deve tenersi ben separata dal dire ok ho fatto 50 foto le pubblico tutte su facebook perché quello è una porcata cioè fare 100 foto e pubblicarle tutte compresa quella sfocata e quella venuta male non ha assolutamente senso quindi distinguiamo bene le due cose bisogna fare le foto con un criterio farne poche meno possibile perché questo semplifica la scelta e poi integrarle in un progetto che abbia un senso compiuto vi do un piccolo tip finale mi avevo forse promesso che avrei lasciato qualcosa per la fine no non l'ho fatto va bene ma lo faccio lo stesso tenete conto che i piatti sono come le persone hanno un lato davanti e un lato dietro lo chef tendenzialmente lo sa perché compone i piatti in un certo modo se avete la possibilità chiedete allo chef se il cameriere è bravo ed è in accordo con lo chef vi porta il piatto già dritto però se avete la possibilità chiedete informatevi su qual è il lato migliore perché spesso lo chef ha pensato il piatto per essere visto da un lato e quindi girando il piatto da una parte o dall'altra possiamo ottenere un effetto molto diverso di solito lo chef ha ragione perché se vi ha posizionato il gambero rosso di Mazzara da una parte il lato giusto di cui guardare il piatto è quello però comunque girando il piatto si possono scoprire delle angolazioni inedite e poco battute amici io a questo punto vi chiedo che cosa ne pensate vi chiedo se avete imparato qualcosa vi chiedo se anche oggi avete mangiato bene vi ricordo per l'ultima volta di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto lasciate anche un like a questo video se avete imparato qualcosa io vi do come sempre appuntamento al prossimo video iscrivervi al canale iscrivervi al canale